dalle lettere del padre Giacomo Cusmano ricorrete alla mamma nostra santissima essa che ha patrocinato la vostra causa finora compirà l'opera incominciata e vi farà ottenere tanto bene se voi sarete sue figlie fedeli seguendola nell'osservanza della santa istituzione avvicinatela con affetto e confidenza filiale per suo mezzo conoscerete ed amerete sempre più l'unigenito figlio suo sposo carissimo delle anime vostre e arriverete alla sorte che vi desidero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti C'è un dolore spre mai bine Să ne fie o capitoare Și a vieții procesare Căci tramano, vina de iudere Maria, in voce scrivina Să ne fie o capitoare Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Căci tramano, vina de iudere Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Maria, in voceingen Maria, in voce scrivina Maria, in voce scrivina Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.